Procediamo a questo viaggio all'interno del pronto soccorso insieme a Luca Grillenzoni, responsabile proprio di questa struttura semplice. Troviamo all'interno della Shock Room, insomma una delle camere dove si agisce assolutamente in modo tempestivo. Quali sono le apparecchiature e come funziona? Io inizierei dall'ingresso perché la porta è una porta meccanica che viene aperta quando il paziente accede direttamente in triage. Non viene triageato subito ma accede sulla barella direttamente qua in questa stanza dove trova il personale ad accoglierlo in quanto tendenzialmente viene avvisato già prima. Questa è una stanza grande di trattamento dove è possibile trattare due pazienti contemporaneamente e abbiamo tutte le apparecchiature più moderne e sofisticate necessarie per trattare i motivi per cui un malato può essere in codice rosso. Cioè codice rosso vuol dire che è in immediato pericolo di vita. In immediato pericolo di vita vuol dire che vi è un'alterazione delle funzioni vitali che verosimilmente andranno supportate. Questo è il motivo per cui abbiamo un monitor defibrillatore, nuovissimo tra l'altro, un ventilatore da trasporto a turbina quindi direi uno dei più performanti che ci sono sul mercato in grado di permettere la ventilazione meccanica sia invasiva che non invasiva nonché del monitor. Tutto su pensieri per permettere di utilizzare al meglio questi spazi. Poi l'armadio dove teniamo i farmaci da frigo, tutto il necessario e il carrello per le intubazioni perché a volte è necessario procedere anche all'intubazione orotracheale.